Ha la parola il Consigliere Monti, prego. Grazie Presidente, rispetto alle richieste di modifica presentate dal Consigliere Bocci vengono accettate la prima modifica, ovvero nel paragrafo considerato che è il terzo punto sostituiamo la parola in asprimento con la parola l'applicazione. Poi viene accettato la terz'ultima modifica, ovvero nel paragrafo valutato che modifichiamo con le seguenti parole, preso atto dalla volontà di collaborare tra Regione Lombardia e Comune di Milano. Il dispositivo viene modificato in questa maniera, proseguire il confronto tecnico-politico con il Comune di Milano affinché si giunga ad estendere l'applicazione della tecnologia move-in anche per i divieti del Comune di Milano e di altri Comuni, virgola, secondo modalità condivise. Dica se devo ripetere o se è stata presa nota, va bene, ok. Grazie consigliere, in ogni caso poi le chiedo di farci pervenire...